Bene, oggi continuiamo con la nostra studio delle operazioni con i numeri naturali e i numeri interi e abbiamo visto la volta scorsa che le operazioni di cui abbiamo discusso sono essenzialmente la somma e la sua inversa, la sua trazione, poi il prodotto e la sua inversa, la divisione e la potenza. Ok, mi voglio concentrare per adesso sulla potenza, perché le proprietà delle potenze sono cruciali nei calcoli che faremo. Quindi se abbiamo due numeri A e B appartenenti a Z e quindi anche ad N, perché vi ricordo che N è un sottinsieme di Z, moltiplicare due potenze con l'esponente uguale significa fare un'operazione di questo tipo. Il prodotto tra potenze dà lo stesso risultato che ottengo se faccio prima il prodotto tra A e B e le loro basi e poi elevo l'esponente comune. Fate attenzione, questa proprietà vale solo se i due esponenti sono identici. Ok, e ovviamente vale anche l'inversa. La potenza di un prodotto posso sempre pensarla come il prodotto delle potenze. Se invece ho due potenze che hanno la stessa base, ma esponenti diversi, N ed M, allora questo prodotto dà lo stesso risultato che dà la potenza che ha la base comune alle precedenti e come esponente la somma degli esponenti. Qui è essenziale il fatto che la base è la stessa. Viceversa, se ho una potenza di una potenza, quindi A elevato alla M alla N, questa è una potenza che ottengo facendo una potenza che ha la stessa base della prima, ma come esponente il prodotto degli esponenti, M per N. Noi avevamo visto la volta scorsa la prossima proprietà, che è la divisione. Se ho una potenza diviso un'altra potenza con la stessa base, A alla N diviso A alla M, fatemi scrivere meglio questo M, quello che ottengo è una potenza che ha la base delle precedenti, ma come esponente la differenza degli esponenti. Ok. E infine ci mandiamo da vedere qua. Ah sì, se ho due potenze che hanno lo stesso esponente, ma basi diverse, ok, allora, quello che ottengo è la stessa cosa che se facessi prima il rapporto A fratto B, e poi la potenza. Ma in questo caso vale la proprietà se gli esponenti sono gli stessi. Ok. Queste relazioni, quelle che metto in questo riquadro verde, per esempio, sono le proprietà delle potenze, e ripeto, sono essenziali. è fondamentale conoscerle bene. D'accordo? Proviamo, per esempio, a fare qualche esercizio. andiamo, per esempio, a pagina 31, e facciamo l'esercizio, che mi so, il 67, del volume che dice, fai questo calcolo, 8 alla settima, elevato ancora alla seconda, diviso 8 alla seconda, elevato alla sesta. Allora qui abbiamo da sfruttare questa proprietà, la potenza della potenza, e la divisione tra due potenze. Quindi, prima svolgiamo la potenza, e dopo la divisione, se vi ricordate la gerarchia delle operazioni. Quindi, 8 alla settima alla seconda, fa 8 alla sette per 2, diviso 8 alla seconda alla sesta, fa 8 alla 2 per 6. Quindi avremo 8 alla 2 per 7, che fa 14, diviso 8 alla 2 per 6, che fa 12. E quindi, 8 alla 14 meno 12, cioè 8 alla seconda. Possiamo lasciarlo anche così, oppure possiamo sfruttare il fatto che 8 per 8 fa 64. Sì? Può tornare un attimo qui in su? Certo. Ecco, questo, il resto partiva da qui. Grazie. Prego. Ripeto, qui uso due proprietà. La proprietà che mi dice come comportarmi se ho una potenza di una potenza, e quella che mi dice è come comportarmi quando ho un rapporto tra potenze che hanno la stessa base. La base è 8 in tutti e due i casi. si fa prima il prodotto degli esponenti e poi la loro differenza. Dobbiamo fare anche il 70 che mi dice parentesi tonda 7 alla terza per 7 all'ottava tutto diviso 7 alla quinta e elevato alla seconda. Questo è in due. Quattro scrivere un po' come qui abbiamo una divisione e abbiamo un prodotto. Quindi prima svolgiamo poiché all'interno delle parentesi questo prodotto. Quindi qui viene 7 alla 3 più 8 diviso qui abbiamo una potenza di potenza 7 alla 5 per 2. Devo fare il prodotto degli esponenti. Quindi qui ho 7 alla 3 più 8 che fa 11 diviso 7 alla 5 per 2 che fa 10. Qui ho un rapporto tra potenze della stessa base quindi ho la potenza che è la base delle precedenti e come esponente la differenza degli esponenti 11 meno 10 che fa 7 alla 1 cioè 7. Tutto chiaro? proviamo anche il ecco questo qua l'86 che dice sempre 7 alla 100 diviso 7 alla 90 per tonda 7 alla quarta elevato alla terza qui facciamo prima la divisione dentro la parentesi tonda quindi 7 alla 100 meno 90 per la potenza della potenza è 7 alla 4 per 3 100 meno 90 fa 10 quindi 7 alla decima per 7 alla 4 per 3 12 qui ho un prodotto di due potenze quindi sommo gli esponenti e quindi viene 7 alla ventiduesima qui non avrebbe senso sviluppare questa potenza perché è un numero lunghissimo ce la teniamo così ok vediamo se possiamo fare qualche altro vediamo anche queste se non ci sono domande io proseguo siamo pagina 32 proviamo l'esercizio 107 pagina 32 qui abbiamo 81 alla seconda diviso 3 alla seconda alla terza che qui apparentemente abbiamo basi diverse ok quindi per usare le proprietà delle potenze dovremmo avere la stessa base però però mi ricordo che 81 è una potenza di 9 è 9 per 9 cioè 9 alla seconda ma 9 è 3 alla seconda quindi è 3 alla seconda ancora la seconda quindi 81 è 3 alla quarta quindi quindi quando qui ho potenze di basi diverse conviene esprimere le potenze con base che sono che siano numeri primi ok quindi vi ricordo che 3 è un numero primo i numeri primi sono quelli divisibili sono numeri divisibili mi scrive un poco meglio solo per uno e se stessi quindi possiamo riscrivere la nostra espressione mettiamela copiare ancora qua come al posto di 81 al posto di 81 scriviamo 3 alla quarta quindi abbiamo 3 alla quarta tutto alla seconda diviso 3 alla seconda alla terza quindi qui c'è 3 alla 4 per 2 con una potenza di una potenza devo moltiplicare gli esponenti diviso 3 alla 2 per 3 quindi mi rimane 3 alla 2 per 4 che fa 8 diviso 3 alla 2 per 3 che fa 6 quindi qui ho 3 alla 8 meno 6 cioè 3 alla seconda oppure se preferite 9 ok vediamo ancora un altro più il 112 che dice 125 alla seconda per 5 alla quarta diviso 25 alla terza qui abbiamo tre basi diverse 125 5 e 25 allora tutti questi tre questi numeri sono divisibili per 5 ok 25 lo posso scrivere come 5 per 5 cioè 5 alla seconda e 125 è 5 alla quinta è la alla terza scusate di conseguenza ho al posto di 125 posso mettere 5 alla terza e quindi ancora alla seconda questa diventa questa espressione per 5 alla quarta diviso 5 alla seconda alla terza quindi avremo che 5 alla terza alla seconda fa 5 alla 3 per 2 per 5 alla quarta diviso 5 alla 2 per 3 e abbiamo 5 alla sesta per 5 alla quarta diviso 5 alla sesta ok quindi qui abbiamo 5 alla 6 più 4 meno 6 i due esponenti delle potenze che si moltiplicano si sommano l'altro si sottrae visto che la potenza è la stessa da base stessa da per tutto scrivo un'unica operazione qui 6 e meno 6 si semplificano dando 0 quindi rimane 5 alla quarta oppure se preferite si poteva anche ragionare così visto che ho 5 alla sesta diviso 5 alla sesta e possiamo semplificare direttamente rimaneva solo 5 alla quarta già qua è uguale va bene lo stesso se non ci sono domande mi premeva mostrarvi questo vi ricordate che quindi nota bene avevamo detto che se ho una base con un esponente nullo questo vale 1 ok per quale ragione beh avendo visto come si comportano le potenze quando faccio le divisioni a alla 0 posso sempre pensarlo come a alla n meno n qualunque numero sia n sottratto a se stesso da 0 ma a alla n meno n posso sempre pensarlo invertendo la proprietà di prima ma come a alla n diviso a alla n però questi due numeri sono uguali a alla n diviso se stesso qualunque numero diviso se stesso fa 1 ecco perché una potenza elevata alla 0 fa sempre 1 a patto che ovviamente questa non sia 0 abbia una base non nulla questa è la ragione principale per il fatto che qualunque numero elevato alla 0 da come risultato 1 a patto che quel numero non sia 0 0 attenzione alla 0 non è calcolabile come la divisione per 0 ma almeno non in termini algebrici ok proviamo qualche altro esercizio esercizio per esempio esercizi con sia operazioni di somma che di potenza proviamo uno di questi per esempio il 133 una pagina 33 ci calcolo la seguente espressione 2 per 5 più 18 diviso 9 meno 14 diviso 7 più 2 per 3 alla seconda ok allora 2 per 5 fa 10 18 diviso 9 fa 2 perché 18 è il doppio di 9 14 diviso 7 fa anche 2 e 3 alla seconda fa 9 e 2 per 9 fa 18 quindi avremo 10 più 2 meno 2 più 2 per 9 se volete lo facciamo dopo 18 quindi 2 meno 2 da 0 possiamo toglierli e quindi abbiamo 10 più 18 che fa 28 abbastanza semplice proviamo proviamo questo esercizio 139 stessa pagina che dice 12 alla seconda per 2 alla seconda diviso 3 alla seconda più 12 alla seconda diviso 2 alla seconda per 3 meno 12 alla seconda diviso 2 alla seconda diviso ancora 3 qui se osservate abbiamo gli stessi esponenti in questa operazione quindi questa possiamo scriverla come la stessa operazione tra le basi quindi 12 per 2 diviso 3 tutto elevato alla seconda divertendo la proprietà che accomuna potenze di basi diverse ma con lo stesso esponente qui lo stesso possiamo scriverla come 12 diviso 2 tutto la seconda e qui lo stesso 12 diviso 2 alla seconda quindi avremo allora lo riscrivo 12 per 2 diviso 3 al quadrato più 12 diviso 2 al quadrato per 3 meno 12 diviso 2 alla seconda diviso ancora 3 ok allora qui ho 12 diviso 3 che fa 4 e quindi abbiamo 4 per 2 alla seconda più 12 diviso 2 che fa 6 alla seconda diviso 3 2 per 4 che fa 8 alla seconda più 6 alla seconda che fa 36 per 3 meno se alla seconda ancora 36 diviso 3 che fa 12 che fa 12 ci conviene fare la prima somma mettere insieme il 64 e il 12 quindi 64 meno 12 più 108 quindi 52 più 108 e otteniamo 160 domande qui dobbiamo mettere insieme diverse proprietà delle potenze poi dobbiamo riprendere qualche altro esercizio per esempio esercizio esercizio 154 a pagina 34 il quale dice parentesi quadra parentesi tonda chiuse più parentesi 7 meno 5 alla seconda più 5 chiusa quadra alla seconda diviso 9 diviso 3 più 150 continuo sotto 150 diviso per chiusi tonda 6 per 3 meno 3 quindi qui dobbiamo svolgere prima le parentesi tonde quindi 7 meno 5 che fa 2 alla seconda più 5 diviso 9 e diviso 3 più 150 diviso 6 per 3 18 meno 3 che darà 15 quindi qui abbiamo più la seconda che fa 4 più 5 alla seconda diviso 9 diviso 3 più 150 diviso 15 questo da 10 e questo da 9 quindi abbiamo 9 alla seconda diviso 9 e ancora diviso 3 più 10 9 alla seconda diviso 9 fa 9 perché sottrago gli esponenti 2 meno 1 fa 1 quindi abbiamo 9 diviso 3 più 10 9 diviso 3 fa 3 più 10 13 ok anche questo se ci sono domande interrompetemi pure per esempio il il 179 pagina 35 che dici qui ci sono diverse parentesi graffa quadra tonda 3 per 2 alla seconda qui attenzione è solo il 2 e la seconda non il 3 qui non ci sono parentesi meno 5 chiuso la tonda per 7 alla quinta chiuso la quadra diviso 7 alla quarta meno parentesi quadra parentesi tonda 2 per 3 alla seconda meno continuo sotto 13 chiuso la tonda alla quarta per 5 alla seconda chiuso la quadra diviso tonda 5 alla seconda chiuso la tonda alla seconda di nuovo chiuso la graffa diviso quadra 6 elevato alla 0 più 5 alla settima diviso tonda 5 alla terza alla seconda chiuso la graffa non la quadra mi piace quadra accusato questo è una quadra ok allora qui dobbiamo occuparsi prima di tutto delle operazioni dentro le parentesi tonde quindi qui copiamo dentro la tonda qui c'è 3 per 2 la seconda prima viene qui per prima viene la potenza ok come in questa tonda prima viene la potenza qui poi faremo potenza di potenza qua dentro e anche qui quindi qui abbiamo 3 per 4 meno 5 per 7 alla quinta diviso 7 alla quarta meno poi c'è l'altra quadra 2 per 3 alla seconda che fa 9 meno 13 tutto elevato alla quarta per 5 alla seconda chiuso quadra diviso 5 alla 2 per 2 che fa 4 chiuso la graffa diviso ancora un po' più sotto diviso 6 alla 0 che possiamo già mettere 1 più 5 alla settima diviso 5 alla 3 per 2 6 qui adesso possiamo svolgere parentesi dentro le tonde cioè le operazioni dentro le tonde 3 per 4 a 12 meno 5 per 7 alla quinta chiuso quadra diviso 7 alla quarta meno di nuovo quadra 2 per 9 fa 18 meno 13 alla quarta diviso 5 alla seconda ancora diviso diviso cos'è no qui c'è una tonda scusate ecco diviso 5 alla quarta chiusa graffa diviso ancora quadra 1 più qui 5 alla 7 diviso 5 alla 6 fa 5 alla 1 7 meno 6 fa 1 e qui si chiude quindi qui abbiamo 12 meno 5 che fa 7 per il nuovo 7 alla quinta potete vedere se ho copiato bene se chiusa quadra diviso 7 alla quarta meno 18 meno 13 fa 5 alla quarta diviso 5 alla seconda ancora diviso 5 alla quarta quindi possiamo toglierne chiusa la graffa diviso ancora 5 più 1 che fa 6 quindi qui abbiamo 7 per 7 alla 5 che fa 7 alla sesta diviso 7 alla quarta meno che abbiamo 5 alla quarta diviso 5 alla seconda ancora diviso 5 alla quarta chiusa la graffa e diviso 6 quindi 7 alla sesta diviso 7 alla quarta fa 7 alla 6 meno 4 quindi 2 meno 5 alla quarta diviso 5 alla seconda fa 5 alla 2 diviso ancora così aspetta forse controllare un secondo questo era un per scusato in questo per il copiato male questo era per 5 la seconda 5 seconda qui c'è per quindi c'è una moltiplicazione e quindi qui c'è un 5 alla sesta diviso 5 alla quarta chiudo la graffa diviso ancora 6 allora qui abbiamo 7 alla seconda 49 meno 5 alla 6 meno 4 che fa 2 diviso 6 e viene 49 che è la seconda meno 25 diviso 6 qui viene 24 diviso 6 che fa 4 ok ci sono domande il trucco appunto è armarsi un po' di pazienza e stare attenti nei vari passaggi vediamo se riusciamo a farne ancora uno al limite proviamo proviamo questo l'esercizio 190 sempre stessa pagina qui c'è una parentesi graffa una frazione lunga nel numeratore c'è tonda 5 più 5 alla 0 più 5 alla seconda tutto elevato alla undicesima e sotto quadra tonda 7 per 5 meno 2 alla seconda chiuso la tonda elevato alla quinta chiuso la quadra elevato alla seconda poi ho meno tonda 5 alla zero più 3 alla terza diviso diviso quadra tonda tonda alla quattordicesima elevato ancora alla seconda ok quindi vi ricordo che dove c'è la frazione lunga significa che tutto quello che sta sopra la frazione è diviso tutto quello che sta sotto ok quindi qui prego prof nella verso l'inizio all'inizio si cosa sono quei due trattini 11 ah ok grazie scusa lo scrivo meglio questo è un 11 allora riprendiamo quindi abbiamo 5 5 la 0 fa 1 più 5 la seconda fa 25 qui devo fare delle somme quindi le potenze di sviluppare questo elevato alla 11 al denominatore ho 7 per 5 35 e meno di una seconda che fa 4 elevato alla quinta chiuso elevato ancora la seconda meno 5 la zero che fa 1 più 3 alla terza che fa 27 e poi diviso ancora la quadra 7 la terza per 7 la quarta che fa 7 la 3 più 4 7 e diviso 7 la 2 per 3 che fa 6 chiusa questo elevato alla decima diviso ancora 3 alla 14 la seconda 3 alla 28 o moltiplicare gli esponenti qui abbiamo al numeratore abbiamo 5 più 25 che fa 30 più 1 31 elevato alla undicesima fratto 35 meno 4 che fa 31 elevato alla 5 per 2 che fa 10 meno 27 più 27 più 1 che fa 28 diviso 7 alla settima diviso 7 alla sesta fa solo 7 7 alla 1 insomma diviso 3 alla ventottesima ok dimmi si si può anche togliere la parentesi anche il 7 non è necessario ok qui abbiamo quindi la base 31 abbiamo una divisione questa linea lunga significa divisione quindi qui abbiamo 31 alla 11 meno 10 che fa 1 però prego prego alla fine della parentesi graffa non è sempre con l'esponente 10 c'è la 10 sì che non ho messo c'è una graffa qua chiedo scusa ecco questa è una graffa e qui c'è un 10 certo quindi qui abbiamo meno 28 il video senti che fa 4 chiuso la graffa alla decima diviso 3 alla ventottesima quindi qui abbiamo 31 alla 1 meno 4 tutto alla 10 diviso il 3 alla ventottesima 31 meno 4 fa 27 alla 10 diviso 3 alla 28 scusate non 38 ma 28 27 e 3 alla terza questo è 3 alla terza quindi qui ho 3 alla terza alla decima diviso 3 alla ventottesima quindi abbiamo 3 alla 10 per 3 che fa 30 diviso 3 alla ventottesima quindi c'è 3 alla 30 meno 28 3 alla seconda cioè 9 spero di non essere andato troppo veloce perché sia stato tutto chiaro ci sono domande per oggi ci fermiamo qui e pancò grazie